I muscoli vengono definiti, in base alla loro azione fisiologica, volontari e involontari e in base al tipo di cellula muscolare, striati o lisci. I muscoli involontari sono formati da fibre lisce, a forma diffuso e dotate di un solo nucleo e sono collocati nelle pareti dei visceri e dei vasi. I muscoli volontari sono composti da fibre striate, dotate di più di un nucleo e possono inserirsi sia sullo scheletro che sulla cute. Essi permettono i movimenti del nostro corpo attraverso le fasi di contrazione e rilassamento. Attraverso le fibre nervose motrici giunge al muscolo lo stimolo per la contrazione delle sue fibre. Il muscolo si accorcia e in tal modo, se rimane fissa la sua inserzione superiore, esercita una forza in trazione sull'avambraccio. Il muscolo è formato da fibre che contengono piccoli filamenti di natura proteica, le miofibrille. Nei muscoli striati, le miofibrille sono formate da filamenti di actina e miosina, che scorrendo l'una sull'altra riducono la lunghezza della miofibrilla e perciò delle fibre muscolari, conducendo alla contrazione dell'intero muscolo.